Nel 2020 Retebiela si era occupata di raccontare la realtà dell'emporio Caritas di Via Orfanatrofio, facendo un bilancio delle attività, delle problematiche e dei risultati ottenuti sul territorio. Oggi, dopo due anni e mezzo, torniamo a parlare di questo centro umanitario che incessantemente opera con i più bisognosi e lo facciamo assieme a Carla Kamatel, responsabile dell'emporio. Carla è una signora che, dopo il pensionamento, ha dedicato tutta la sua vita al sociale ed oggi passa le sue giornate all'emporio a servire il prossimo. Rispetto a due anni fa, la situazione oggi è gravemente peggiorata, a cominciare dagli approvvigionamenti alimentari. Abbiamo una diminuzione nelle forniture dei supermercati, perché probabilmente vuoi la crisi, vuoi l'aumento dei prezzi, fa sì che i supermercati hanno meno scorte e quindi a noi arriva poco. Il nostro emporio è specializzato soprattutto per i prodotti freschi, quindi frutta, verdura, latticini. E quindi ci ritroviamo il più delle volte ad andare a comprare queste cose. Il latte lo compriamo sempre. Da metà gennaio ai primi di maggio sono 3.900 litri di latte che abbiamo comprato, perché alle famiglie un litro di latte alla settimana non gli basta. E quindi devi dargli, soprattutto dove ci sono bambini, ne dargli più. Senza contare tutte le uova che si comprano. Tu considera che c'è una media di 60 uova al giorno che noi diamo e quindi tu fai già subito il conto in una settimana quante uova vanno. E anche quelle le dobbiamo comprare. Oltre il latte, le uova, anche la frutta e la verdura sono ben di primaria necessità, anch'essi difficilmente reperibili. La frutta dall'Italia non sta arrivando. Arriva tutta dall'estero, arriva dalla Spagna, arriva dal Centro America. I prodotti nostri locali che arrivavano principalmente dall'Emilia Romagna o anche dal Veneto, stentano ad arrivare. Dall'Emilia Romagna non arriva più niente. A usufruire dei servizi dell'emporio sono in gran parte nuclei familiari. Nel 2020 erano intorno alle 150 unità, oggi sono addirittura raddoppiati. Ormai siamo arrivati sui 280 famiglie con problemi forse peggiori, perché la pandemia ha lasciato uno strascico notevole. Il grosso problema che abbiamo incontrato in quest'ultimo anno è che noi come regolamento alle famiglie davamo il pacco, la scatola, la borsa, chiamala come vuoi, una volta alla settimana. Adesso non ce la fanno più una volta alla settimana. Molti di questi nuclei familiari sono davvero numerosi ed è per questo che l'emporio deve avere un occhio di riguardo per i bambini, in modo particolare per quelli che sono scappate da condizioni disastrose, da condizioni di guerra, come le famiglie ucraine. Sono famiglie intere che sono arrivate, persone squisite che piangono tutte le volte che vengono lì perché le situazioni sono quelle che sono. Abbiamo mamme qui che hanno i figli grandi adulti in Ucraina e che cercano di spedire i pacchi. E quindi ci chiedono di nascosto se possiamo dargli il chilo di pasta in più per poterlo spedire in Ucraina alla famiglia.